Scommetto che è successo anche a voi? Siete su una spiaggia, in un parco o magari state leggendo un libro come facevo io e vi scoprite circondati dai rifiuti. Secondo gli scienziati i prossimi dieci anni saranno cruciali per il nostro pianeta e l'inquinamento è una delle cause principali della perdita di biodiversità. Quest'anno la Commissione Europea ha adottato una strategia per proteggere la biodiversità e per riportare la natura nelle nostre vite, attraverso delle azioni concrete che riguardano gli stati, le imprese e la società. Ma c'è qualcosa che possiamo fare tutti, quotidianamente. Basta seguire la regola delle quattro R, ridurre, riutilizzare, riparare e riciclare. Io aggiungerei anche una quinta R, raccogliere. Cerchiamo di lasciare i luoghi migliori di come li abbiamo trovati, su! Grazie per la visione!